Nerone, l'imperatore tra luci e ombre. Nerone, il cui vero nome era Lucio Domizio Enobarbo, è stato il quinto imperatore romano, nonché l'ultimo della dinastia Giulio-Claudia. Regnò dal 54 al 68 dici, un periodo di 14 anni ricco di eventi controversi che hanno contribuito a forgiare la sua fama di tiranno, e folle. I primi anni e l'ascesa al potere. Nato ad Anzio nel 37 dici, Nerone era figlio di Agrippina minore, nipote di Augusto, e di Mieo Domizio Enobarbo. La sua giovinezza fu segnata da un'infanzia travagliata, caratterizzata dalla morte del padre e dall'esilio della madre. Tuttavia, la sua posizione cambiò radicalmente quando Agrippina sposò l'imperatore Claudio, divenendo di fatto la matrigna di Nerone. Nel 54 dici, Claudio morì in circostanze sospette, e Nerone, all'età di soli 16 anni, salì al trono. I primi anni del suo regno furono caratterizzati da un periodo di relativa prosperità e stabilità, grazie all'influenza di Seneca e Burro, i suoi precettori. Nerone si guadagnò il favore del popolo con la sua generosità, le sue riforme fiscali e il suo mecenatismo artistico. Il quinquennium Neronis e la svolta drammatica. Il periodo tra il 54 e il 59 dici, conosciuto come l'equinquennium Neronis, è considerato l'apice del suo regno. Durante questo periodo, Nerone attuò diverse riforme positive, come la costruzione di un nuovo porto a Roma e l'istituzione di un sistema di sussidi per il popolo. Inoltre, si dedicò con passione alla poesia, alla musica e alla recitazione, partecipando pubblicamente a gare e spettacoli. Tuttavia, a partire dal 60 dici, il regno di Nerone iniziò a prendere una piega drammatica. La morte di Britannico, fratellastro di Nerone, e l'uccisione di Agrippina, sua madre, segnarono l'inizio di un periodo di terrore e repressione. Nerone si sbarazzò di tutti i suoi nemici, reali o presunti, attraverso esecuzioni, confische e torture. L'incendio di Roma e la persecuzione dei cristiani Nel 64 dici, un incendio di proporzioni devastanti colpì Roma. Nerone fu accusato di aver appiccato il fuoco per poi ricostruire la città secondo i suoi piani megalomani. Per allontanare da sei sospetti, Nerone accusò i cristiani di essere i responsabili dell'incendio, dando inizio a una feroce persecuzione che causò la morte di migliaia di persone. La caduta e la morte di Nerone gli ultimi anni del regno di Nerone furono caratterizzati da rivolte militari e civili in diverse province dell'impero. Nel 68 dici, il Senato lo dichiarò nemico pubblico e lo condannò a morte. Nerone, braccato e ormai privo di appoggi, si suicidò il 9 giugno del 68 dici, all'età di 30 anni. Eredità e controversie La figura di Nerone è rimasta controversa nella storia. Da un lato, è ricordato come un tiranno crudele e sanguinario, responsabile di efferati crimini e persecuzioni. Dall'altro, viene riconosciuto come un abile amministratore e un mecenate delle arti, capace di realizzare opere grandiose e di dare lustro all'impero romano. Conclusione Nerone è stato un personaggio complesso e sfuggente, la cui figura ha alimentato leggende e miti per secoli. La sua storia rappresenta un monito contro i pericoli del potere assoluto e l'importanza di un governo basato sulla giustizia e sulla moderazione.